e la scusate la luce ma è appunto quasi notte sono vabbè la sera sono le 9 ma non ho niente da fare perché il semipermanente me lo sono rifatto semplicissimo sto qui perché dura tantissimo e stasera ho deciso di fare after con il mio elefantino perché oggi a mezzanotte cioè domani faccio il compleanno quindi oggi a mezzanotte faccio 15 anni auguri a me ancora no mancano poche ore ho deciso appunto di fare after perché tutti i miei amici mi manderanno messaggi mi chiameranno tutti voi di instagram che siete davvero carinissime avete detto che aspetterete con me la mezzanotte cioè io sono troppo felice praticamente io vado a dormire a mezzanotte tutti i giorni quindi manca di più perché non riesco ad avere cioè non ho sonno prima di quest'ora comunque quindi non ho niente da fare perché ho il telefono sotto carica e l'ipod ora lo devo mettere a caricare e ho intenzione di fare quindi video a mezzanotte appunto però appunto mi vedete al buio e struccata perché ora mi vado a struccare mi metto il pigiama e quindi vabbè io mi vado a struccare vi volevo far vedere perché non vi ho fatto un video però vi volevo far vedere il mio nuovo portapenne che è bellissimo ora c'è poca luce però vabbè è bellissimo e io ce n'è un altro che praticamente porta mascara che è questo qui bianco bellissimo ci vediamo tra poco non posso parlare perché i miei genitori e i miei fratelli stanno dormendo sto vedendo social face e sono struccata sono bruttissima oggi è il my birthday ragazzi mi avete fatto gli auguri in tantissimi su instagram grazie davvero grazie mille e vi farò un video sui regali ovviamente anche mi sono arrivati due pacchi d'aria express li devo andare a prendere a casa di mia nonna e ve li farò vedere quando in un video post appunto allora mi sono piastrata i capelli cioè è uscito tipo un'ondina perfetta spero di riuscirlo a fare all'altro occhio sono pronta io amo questo outfit ora ve lo faccio vedere innanzitutto mi sono fatta le cose le come si chiamano le vabbè le cotine delle liner i capelli lisci mi piacciono tantissimo e qui c'è l'amichetto alieno ora vi faccio vedere l'outfit perché io lo amo scusatemi la luce ma è sera e se accendo la mia luce fa cagare perché è gialla ora vi faccio vedere l'outfit perché è stupendo allora sopra ho la maglia con appunto l'alieno che rimane corta però appunto i pantaloni sono abbastanza a vida alta appunto come dietro e come vi faccio a far vedere i pantaloni e poi ho questi pantaloni neri che io amo e c'è l'outfit che mi piace tantissimo appunto cioè mi piace troppo questo outfit stavo girando il video con il cavalletto però ora lo devo chiudere devo vedere che ore sono perché devo andare i miei amici mi stanno aspettando quindi vi mando un bacio ci vediamo domani